Noi viviamo come Operazione Colomba da circa due anni in un campo profughi nel nord del Libano con i profughi siriani e alcune di queste persone stavano decidendo di prendere i barconi, insomma, di venire verso l'Europa. Quindi abbiamo pensato insieme ad altre associazioni, insieme a Comunità Sant'Egidio e alle Chiese Evangeliche di costruire un'alternativa alla morte in mare o al rischio di morire, insomma. Queste sono persone che scappano da una guerra e scappano da una guerra perché non vogliono uccidere né essere uccise. Quindi ci sembra che costruire un'alternativa sia doveroso come minimo. Sono persone che hanno bisogno, per usare le parole di questi nostri amici, dicono noi il bisogno principale che abbiamo è di umanità, non siamo siriani, non siamo profughi, siamo esseri umani. Quindi come esseri umani chiedono di essere trattati, quindi di avere una vita in cui non si rischia solo per il fatto di uscire di casa, in cui i bambini possono andare a scuola, le persone possono lavorare, mangiare, guardare il futuro con un po' di speranza. Per un anno saranno in Italia, poi il loro sogno è tornare a casa, insomma non ambiscono a vivere in Europa, vogliono tornare a casa, avere una vita normale, dicono dateci un pezzo di terra in cui non ci sparino e noi ricostriamo quello che avevamo.